Piatta dei Martiri per Natale dovrebbe essere bellissima, molto di più di un anno fa. Il progetto vale 300.000 euro, con il comune che parteciperà con 50.000. Cosa però si pensa di fare nel resto della città? Ieri sera ci siamo riuniti, tutti quanti i commercianti qua del centro, vecchio, e i cittadini. C'era l'assessore, Luciani, e c'era anche un signore, quello che organizza l'evento in Piazza dei Martiri. Gira, 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 tutto quello che verrà fatto qua, da quello che si è capito dalle foto, ed esclusivamente in Piazza dei Martiri. C'è una società che si è impegnata per fare la zona nord e verrà una cosa bella per tre anni. Ci vorrà la collaborazione di tutti per coinvolgere anche il centro storico dentro le mura. A preoccuparsi sono infatti i negozianti che gravitano attorno a Via Mezzaterra e Piazza delle Erbe, che hanno il timore di vedersi escludere da ogni addobbo pubblico. In Piazza dei Martiri ci sarà dal villaggio di Natale alla pista del ghiaccio, dalle iniziative studiate per i più piccoli a un tendone per le cene, ma il timore è che le cosiddette luminarie vengano tutte concentrate esclusivamente lì. Sembrerebbe che venga fatto tutto su nella piazza principale della città, noi qua siamo nel centro storico ma siamo qui a due passi e volevamo capire di riuscire a dare una certa continuità in maniera che la gente possa arrivare anche qui da noi, perché l'anno scorso è stato proprio un disastro. Quest'anno speriamo che vada un po' meglio, però attendiamo notizie fra 10-15 giorni, ci hanno rassicurato. Ieri sera abbiamo fatto una riunione qui con tutti i negozianti, via Mezzaterra, piazza delle Erbe, via Rialto, piazza Mazzini e l'argomento era questo. Quindi speriamo, confidiamo che il comune ci aiuti, che non succeda come l'anno scorso, che c'è stato proprio lo zero assoluto delle luci. Io faccio fiducia sul mio consorzio che sta facendo quello che può. I consorziati sono anche qua di sotto, in via Rialto, quindi spero che le luci vengano portate anche qua di sotto.